Una cosa nuova per voi è questo progetto dei contatti che ho appena avvenuto sull'architettura di ORPC, un progetto che è stato presentato nel 2014, signor Agus Dei. Quell'anno lì, sempre nel 2014, è stato pubblicato il sito che propone questo progetto. Ovviamente, nelle varie inizioni abbiamo già fatto tutte le evoluzioni. Poi, nel 2016, c'è stata un'associazione che ha cambiato l'obiettivo, nel senso che invece che se ci sono andati intorno a un giro specifico, questo è l'attentato di un'appenata per quale ORPC, sono andate a tre iniziativa, perché l'associazione ha un scopo, ovviamente, utilizzato più attrevento di qualità solo sul psicologico. Per cui, diciamo, le varie inizioni hanno aggiornato un'altra cosa. Con queste inizioni, ovviamente, tenuto conto che se non verranno le altre, comunque vi informerò su questo progetto in particolare, diciamo che parleremo di qualcosa che non è trittamente solo tecnico, perché, ecco, questo effetto farfallo, no? E' chiaro che i matematici veramente normalizzano altre cose, peraltro non veramente altre cose, no? Per cui, diciamo, non è solo una cosa tecnica, è un po' che poi mi stuflo di dire stesse cose la stessa cosa, non è che vale un po'. Però sì, perché andiamo un po' a vedere quello che ci sta dietro nello spirito del progetto, dell'associazione, oltre a chiedere una cosa normale, no? E' un'associazione molto semplice, culturale, ma fa una molto semplice associazione, siamo tutti volontari e, diciamo, abbiamo un codice di prodotto, cioè, essendo un'associazione, diciamo, tecnico-scientifica come diritto di interesse, non siamo dei geni, non è che l'associazione dove la priorità è l'intelligenza o l'evoluzione, quindi, in realtà, l'entratto umano, cioè come ci trattiamo. Per cui, prima di tutto, essendo volontari, ci interessa giurire di questa esperienza e ci interessa, ovviamente, creare un ambito positivo tra le persone participe, no? Quindi questo per definire subito le caratteristiche, no? Quindi, magari non cerchiamo in altri aspetti, ma speriamo di far crescere meglio questo aspetto della reazione, e come ci trattiamo. Gli obiettivi sono molto animali, no? Quindi noi, avendo iscritto, lo direi che abbiamo raggiunto in credito, e poi, sono rimedi, no? A parte, come dicevo prima, ci interessa produzione di hardware, ma, tanto, non è che, come dicevamo, siamo un'associazione, ma, al massimo, facciamo qualcosa come intellettuale, che si occupa, quindi, condivisione di sapere, sulla hardware e sul software, certo, ci interessa non solo fare gli esercizi di stile teorici, bisogna anche prototipare, a un certo punto vedere se il progetto hardware, effettivamente nel mondo è hardware, ha un suo funzionamento, quindi c'è anche un aspetto. Qua è un obiettivo di vendere, sembra il nostro obiettivo. ci interessa, ovviamente, anche, tutto il tema, diciamo, dell'impatto sull'ambiente che sia il nuovo possibile, anzi, io parli di ambienti che si leggera, invece che l'entramento del filale, diciamo, più immagine. E, però, diciamo, per concreto, ho cercato di utilizzare ancora una sottoscente, un nuovo più vecchio, che è un nuovo quasi quasi di tratteglia, e quindi, a tutti i progetti, in qualche maniera, fanno il modo che si può, utilizzare gli strumenti elettronici, altrimenti il ciclo commerciale di tatuati, a prendere contatti. Se riusciamo a fare un modo, questo non sia fatto così, riusciamo a metterci solo del software lì, ok? Ovviamente spingiamo per le persone, con un sorta di computer che incipiamo, con un'attività, con un'attività, con un'attività, e poi, come dicevo prima, c'è anche un'immagine un po' più, sì, di innovazione e progresso scientifico in funzione dell'umanità. Nel senso che, quello che si vive, veramente, nelle società, hanno dei valori, un movimento storico, nella società, che c'è un'attività, per lo meno, dei valori di stretto, che, in realtà, in tutte le branche di espressione dell'umano, in qualche maniera, si sono influenzate. Ci sembra che anche la scienza ha bisogno di essere un po' liberata dall'influenza, diciamo di una visione, appunto, di una proprietà dell'agente di essere, ma, così, mio e, come poi, di collaborazione, non si serve di cosa, forse... Comunque, diciamo, in attività, è quello, riuscire a fare in modo che ci sia un'offerta diversificata, di tecnologia di scienza, e quindi, diciamo, possibilmente, fare qualcosa per ridurre un po' all'ultimo problema. Questo momento, io penso che, non poterle, che sono qualcosa che facciamo sempre. Allora, parliamo rispetto a far farlo, dal punto di vista matematico, anche per me non ho mai le conoscenze per farlo, ma, di altro, di quello che a me interessa di questo tipo, no? Se lo guardiamo su Wikipedia, dice, l'effetto far farlo, l'idea è che, piccole variazioni meno differenziali, producano grandi variazioni nel comportamento non moderno in un sistema, no? Adesso la freccia è rimasta pochissimo, anzi, un'altra parte ne si sposta la mente a qualcosa che non si vive quasi, a seconda di quello che succede dentro, in modo che uno rappresenta, non ho mai chiamato una stupida di altri pazienti, però, a seconda di quello che succede a uno, basta pochissimo per la freccia dal centro oppure da un'altra parte, no? E piccola condizione diversa, a volte anche quasi non tangibile non visibile, grava di cambiare del toro potere. Quindi a noi, perché abbiamo l'effetto far farlo? Perché è l'unità, virgolette, speranza di poter fare le cose che hanno note, nel senso che o siamo una realtà che dispone appunto di mezzi diciamo di finanziamenti oppure finalmente la forza non è quella del denaro, ma la forza dell'essere umano della società. e quindi l'effetto far farla è importante da considerare perché se effettivamente una piccola intenzione che si assomba poi a lungo vero e poi c'è un cambiamento molto grande è il punto su cui possiamo andare. Allora, giusto il punto per vedere un po' nell'esperienza la persona questo effetto far farla, no? Delle volte abbiamo tutti i primi visti nella vita, ma delle volte tutti questi sono rivelati delle possibilità se non fosse successo non avremmo conosciuto quella persona non avremmo scoperto la tale di esperienza e quindi delle volte piccole variazioni di volte un po' casomale o vivo ci portano alla strada abbastanza diversa nei motivi, no? Delle volte a cui pensi forse faccio così mi pensiero in giro una piccola variazione mi produce una scelta diversa all'esterno e poi succede che mi non abbia fatto quella scelta non ce l'essa quindi basta neanche fare niente non solo cambiare il punto di vista sull'essere umano o sulla situazione ma solo cambiare il punto di vista modifica il fenomeno quindi vedo la tecnica quantistica se si va ancora con esperienze per cui diciamo anche quello basta poco e cambiano delle dinamiche credete? e delle volte a me non è successo una volta nella vita che ho l'utopia una roba che è tutta mia folla e in effetti pur avendo un po' di voce questa vicenda tu lo dici eppure delle volte gli altri in qualche maniera si sono accesi questa piccola utopia questa questa ma altre cose questo desiderio l'ho condiviso e incredibilmente arrivato l'espresso è successo qualcosa ma però diciamo guardiamo solo l'esperienza di questo che noi abbiamo definito il fenomeno farfalla c'è esperienza secondo me un po' di lui non è pronto ho messo le onde ho messo le onde ho messo le scelte le comunità può essere comunque un po' di sapere per cui secondo me è una realtà cioè non è tanto come diciamo è qualcosa di reale nella nostra esperienza nella nostra teorica lontana il sacro per cui nella nostra vita forniamo un po' di verrà con cui servire per lui è successo che qualcosa è cambiato grazie a piccoli cammini in realtà le comunità si sono create evolute cioè delle volte le persone hanno iniziato a fare una certa cosa si è iniziata con un'altra paralizzata con un'altra con altre ancora via via hanno in fatto la scuola in alcuni casi hanno modificato hanno creato per esempio tutto il tema dell'ergovisione impiantare software i software che può andare oppure via di mettere mano modificare oggetti di riprendere le soluzioni di altri eccetera poi tramontate in più recenti anni quello che aveva chiamato l'osonetico dove diciamo l'invento metric eccetera eccetera secondo me hanno a che fare con queste onde questi cambiamenti che alle volte sono microscopici o rimanendo quegli movimenti o comunque qualcosa che che dilatta che va attraversa nazioni attraversa continenti eccetera allora scusate che non ci sono sempre dei termini veramente fantastici poi piccole scelte ogni volta io ho messo a grande due direzioni una una direzione di condivisione di collaborazione di aiuto e l'altra potrebbe essere il controllo di avere potere su una situazione su una persona su una cosa di manipolare cioè operare perché che non si esprima all'intenzione dell'altra ma si esprima alla cosa di Dio dell'altra che come sono io lo definisco un bivio importante verso frattare perché poi si ripete mille e mille occasioni e ogni bivio potrei preanimare a strada e quindi poi si troveremo a fine di tante scelte e in posizioni molto diverse e questo è un po' secondo me le esperienze di tutte le associazioni di tutti i movimenti che in qualche modo tutte le persone che si muovono e fanno la scienza no? il punto è che si dà verso 8 possiamo essere appassionati di tecnologia domande a che ci serve nel senso potrebbe essere qualcosa di utile per la vita o che no? e secondo me a seconda di quel tipo lì cioè diciamo della direzione mentale cosa uno cerca se per esempio il tema è la condivisione e la collaborazione o l'aiuto di conseguenza il software può essere che sia acquisto come un software real no? un hardware o un hardware condiviso cioè parte diciamo un aspetto di collaborazione anche lì come poi è successo no? può arrivare se inizia addirittura a un cambiamento grande cioè a una conoscenza di amica della produzione condivisa invece che avere dei grossi dei piccoli centri di potere di conoscenza di produzione organizzati geopoliticamente di un comune cioè una cosa di forte si può passare ad un'altra condizione in cui questa conoscenza è distribuita più paesi più città tra le persone e la produzione anche no? e il momento di fatto c'è un bilanciamento di potere decentrante questi centri no? chiaramente si distribuisce e si bilancia diciamo ovviamente sono processi diciamo prima tant'e onde c'erano tanti centri ma secondo me è coerente puntare a quei idea lì e quindi lo facciamo con l'associazione ci mettiamo in mano con la meta lì cioè ci piacerebbe che insieme questo progetto appena arriva questo piccolo progetto sia un contributo di condivisione della conoscenza per fare in modo che i centri di conoscenza non siano solo in un punto non so siano in un certo paese in un certo modo c'è tanta ragione ovviamente tra le situazioni di svantaggio questa cosa in un centro e invece diciamo impossibilità di tutti e due perché comunque non si capisce perché c'è una certa passione dalla parte dell'uomo potrebbe lavorare insieme quindi c'è ovviamente la presenza alimentare invece del controllo del potere della manipolazione cioè diciamo quel tipo di visione coerentemente sposa meglio la proprietà anche sul proprio proprietà dei software dei progetti dell'acqua di tutta quella parte della conoscenza che però anche spesso in situazioni di vantaggio tecnologico potere sono per cui diciamo anche il politico di scelta a diciamo concentrazione di manipolazione della conoscenza eccetera eccetera per cui diciamo mi interessa puntare alla condivisione con infatti le cose piccole però puntando per cui qua c'è la rappresentazione di una catena di pratiche di visione di condivisione del software del hardware molto rascarossa quello che l'abbiamo fatto prima e allora poi ho inserito come dire una piccola zoomata di questo frattalone una piccola zoomata dove c'è ci siamo come associati noi ci hanno fatto di accoggiare qualcosa sulla parte del software 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 di lavoro PC una parte del hardware c'è come di un fino diciamo alla lunga diciamo alla lunga a arrivare a contribuire un obiettivo più con il termine però tutto questo si fa perché c'è questo fiorellino che sboccia perché all'interno è tutto un lavoro precedente ok ok quindi questo è un po' diciamo spiegare cosa si intendeva per effetto che si fa fare dal vostro punto di vista è che la cerca non è importante altrimenti in un'esilità che non ci sarebbe secondo me grossa possibilità di infundire invece secondo me è certo però questa ragione può essere certamente scelta io vi ho invitato un po' a cercare delle vostre esperienze ma il progetto che è ancora lo scorso sempre nella nostra associazione è un po' da una parte il riciclo e dall'altra l'insegnamento delle scuole meditati nello strumento di codice che screcce per cui ha avuto due cose l'adozione del software diciamo in qualche maniera la distribuzione della conoscenza diciamo in questo caso del corpo il fatto comunque di dare valore all'educazione e di fare in modo che si faccia come questo progetto in realtà le scuole che lo riuso quindi si sono ricercati dal 15-19-21 la scuola è stata pronta avanti questo progetto localizzato in questo momento come la nostra associazione romeo nelle marche poi chiaramente è aperta nel senso che chi non può interessare a motivarlo diciamo dove è è stata per esperienza quest'anno si riprenderà nelle marche più scuole che abbiamo che sono di altri volontari e di altri ma comunque anche qua dove siamo presenti diciamo un po' e questo è un esempio di quello che uno degli obiettivi capivano torno un po' sul progetto che ho avuto di voi a parte qualcuno di tutti non so da tanti anni mi ricordate non conoscendo bene vi racconto un po' questa cosa del progetto perché allora innanzitutto a me ci piaceva fare qualcosa che toccasse un'architettura un po' diciamo un po' diversa da quella già utilizzata ci sembrava una sfida stimolante nel frattempo c'è da dire che un'architettura a cui diciamo queste istituzioni è diventato aperta quindi bisogna fare una licenza per accedere a queste istituzioni non esattamente hanno fatto lo rischio più recitamente che l'OPS però di questo è successo dopo la mia scelta dell'architettura però voglio dirlo perché è una motivazione è un'architettura recente cioè quindi diciamo l'aspetto che sono semplici va bene su varie diciamo situazioni che serve che serve appunto appunto c'è una efficienza energetica ovviamente non c'è la stessa diciamo di accelerazione di rinnovo che processore che ha accesso di PC più efficienza energetica però tra virgolette nel senso che la miniaturizzazione non segue il passo perché comunque radicchia quello che usiamo noi come processore e non c'è molto software proprietà perché questo è un vantaggio nel senso che vantaggio nel senso che ci obbliga a in qualche maniera a dare valore a contribuire all'aspetto del software no? va bene giusto una piccola nota essendo aperto l'ISA è stato fatto su FBGA un diciamo un processore cooperativo per l'ISA lì gira anche su piccolissime che già è molto lento questo per dimostrare che effettivamente l'ISTRUCTION 7 è aperto adesso non posso un po' non si vedo esattamente la parte che si sta facendo la bolla però diciamo essenzialmente una demostrazione concreta che l'ISTRUCTION 7 è aperto quindi è un elemento interessante per fortuna c'è una comunità rispetto a vostra architettura dall'2013 quindi abbiamo anche un modo di collaborare ci sono università eccetera eccetera che viene avanti beh spero di parlare su cos'è lo penale quello che sarà ci lo sapete qualcuno se siete tutti accalati o meglio avrete appunto cosa sono penale cosa facciamo ci parlo? si 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 allora beh prende il tema della software idola cioè la possibilità di studiare modificare distribuire analizzare quello che sono progetti che vengono pubblicati quindi anche il nostro la nostra madre boh aveva pubblicato lo schermo elettrico adesso lo schermo elettrico quindi vuol dire che c'è l'incenza che in questo caso la CERN che la c'è scritta anche lì che regola le modalità con cui si può modificare eccetera per cui si può con la nostra scheda madre che è fatta con questa filosofia quindi c'è una certificazione che è quella della OSHWA l'associazione che noi vorremmo uscire a seguire per fare una prassi per fare una buona pubblicazione di tutto quello che si ha dato per produrre questa scheda madre la faremo quando siamo arrivati alla fine adesso c'è lo schermo elettrico adesso stiamo raccogliendo le donazioni per fare i PCD quindi lo faremo alla fine per me per me per me però è già pubblicato lo schermo elettrico ovviamente la libertà non è assoluto in generale quindi diciamo un progetto un progetto open hardware penso sapere se condividi tutto ciò che può condividere se per qualche ragione a un certo momento ci contattasse qualche cibo che noi abbiamo già ovviamente contattato ma non tutti ci hanno disposto ci dicono che poi nella scheda madre c'è qualcosa che non continuate a pubblicare ovviamente dobbiamo vedere cosa fare cioè possiamo rendere pubblico tutto ciò finché perché non c'è qualche altra cosa per non ci permette ovviamente alla parte della sua condizione per il momento nessuno ci ha effettivamente di madre anzi però secondo me tutti ci hanno disposto il cibo che abbiamo usato vediamo a mettere le mani all'altro non è che fino alla porta a essere aperto quindi se decideranno che non possiamo eseguire il contatto ecco qua ho già detto posso solo aggiungere che appunto ci hanno aiutato nel capire come eseguire questa linea di certificazione ci hanno aiutato gli avvocati americani di New York che ci hanno detto un po' quello che abbiamo chiamato perché in realtà non c'è tanto per lo meno ci sono diversi progetti di open hardware non sono diversi però c'è stato bisogno di chiedere questi programmi per avere una certa qualità per cui sono interessanti siamo anche in questo campo come un attore possiamo dire va bene quindi questo rispetto all'open hardware non so se è giusto che mi ha detto mi annoio di me stesso ma se avete qualche domanda l'ugente sull'open hardware su qualcosa che mi dice no aspetta voglio chiederlo subito possiamo fare che un attimino sto parlando e poi passiamo un pezzo giusto? così non posso c'è qualche domanda nella sposta quindi fino a male si è capito cos'è sto operando ok allora rispetto sempre tornando a sul progetto specifico allora come dicevo il caricatore c'è la parte di progettazione quindi prima lo scrivete poi il PCB poi sarà da verificare il PCB progetto di funzioni tipototipi o alcune competenze le abbiamo però anche dove ci sono non c'è tempo nel senso che per fare un progetto di quale tipo ci vogliono tante ore e c'è gente che anche pagando da un altro gruppo non può fare comunque sono unità sono solo alcuni che potrebbero incidentare e quindi il progetto della campagna di nazioni è stato progettato da aziende esterne che chiaramente sono in realtà pubblica sono persone che in una certa parte hanno comunque piacere le nazioni di questo progetto quindi non è un'idea di fare questa progettazione però diciamo noi siamo come dire il punto dei bracci dove accogliamo le nazioni assediamo il progetto e poi rivolgiamo i volontari che sono in grado speriamo che gli aggiungete un po' di elettronici per fare anche il PCB se vedete c'è ancora la misura che siamo con il tempo però dopo di che finito un po' quello che dicevo di traduzione eventualmente le certificazioni da fare eccetera eccetera diciamo magari sarebbero che le facesse di proprio luce quale c'è comunque sia ma se arrivano fin in fondo se è possibile allora per un momento a Q-System si occupa perlomeno prima di produrre la scheda se ci sarebbe che una regola e quindi noi interrompiamo come attività dal punto di vista dell'associazione anche per tempo che non esserano le altre aziende in questo momento ovviamente è l'unica che si era messa a dire con interesse e poi c'è Steambook che è una società francese che viene votata su Inus sono anche loro un passione quindi ci stanno aiutando e quindi forniranno tramite produttore cinese per esempio in Spagna lo Chassin e quant'altro però comunque riescono a fornirti il necessario senza scheda madre senza CPU così che riusciamo a fare una cosa sensata e quindi con i rischi di passi successivi poi chiaramente noi in parallelo stiamo anche con un progetto persone per fare la progettazione del suo stella per poterlo stampare tra gli professionali è un progetto parallelo perché sono da noi di una realtà dove deve lasciare al mondo per esempio quegli altri progetti che possono usare quindi non è temporaneamente arrivare dopo in teoria già ce l'hanno fatto però per farlo completamente per fare tutte le misure della scienza attuale per poi fare un disegno che sia compatibile con l'attacco interno con la scala all'interno però diciamo c'è in offerta però c'è un genio stanno facendo con fricante altre parti stanno facendo con letter non più ci hanno usato un po' per l'azione però ce l'hanno fatto e va bene tra l'altro io faccio vedere un pezzo di letter e va bene poi in altra parte la parte di disegno meccanico per il rosso mi fermo mi sono mi spesso c'è parte che deadline vi siete dati per il progetto quando pensate di riuscire allora in realtà il deadline diciamo il deadline si è sospretto diciamo adesso stiamo inizando la campagna nazioni e il desiderato sarebbe pochi mesi per concluderlo no? e l'idea che noi cerchiamo sempre fatta la fase di iniziamento vogliamo vedere ci sia un certo ritmo di diciamo donazioni vediamo che c'è un certo ritmo quindi vuol dire che possiamo iniziare a firmare con tre disegno di cd e quindi possiamo impegnarci a prima e quindi c'è questa mia fase dopo di che l'inviva riserva a chi diciamo è interessato condividere il più possibile per accelerare il desiderato solo in qualche mese concluderò perché come dicevo se noi vediamo dopo un mese c'è un buon ritmo di raccolto iniziamo a continuare a contattare a un certo punto daremo già le soldi a chi fa il disegno si rimpatta in quel modo iniziamo un po' per cui il disegno per qualche mese due tre quattro non so anche mese una volta c'è un anno fa gli eroghi erano per cui vediamo aspettate che nel 2020 teoricamente dovreste già ma secondo me i diritti saranno nelle possibilità però l'effetto farfallo non si può limitare anche perché la verifica è di essere una cosa che risponde a un bisogno o un desiderio o qualcosa per cui certo non lo so vediamo però sì secondo me potrebbe essere vantibile almeno di previsti gravi e che nel 2020 si riesca a vediamo come diciamo gestire altre crisi che non posso fare grazie se volete consiglio eh secondo me perché non voglio ok allora partecipare molto è la partecipazione eccetera talmente eh eh a me interessa eh solo il servo obiettivo questo molto interessante ci interessa che ognuno faccia un'esperienza cioè in qualche modo che sia qualcosa che che da una parte uno si in realtà si trima a se stesso che sia una forma di partecipazione a un punto che in qualche maniera cambia positivamente non ti dice aspetta ti aiuto per mettere l'uomo spiegato hai bisognoso ti aiuto faccio una pratica mi sono pensate no non fanno cioè se c'è qualcosa che mi vibra qualcosa non è che mi hanno bisogno di stermotivismo non è che siamo non facciamo qualcosa di grande questo è qualcosa di positivo per lui partecipare è come dire qualcosa che è un obiettivo di senso creare partecipazione però all'interno di queste dire se uno vuole se uno si vibra se uno si attiva eccetera positivamente può collaborare con il software invece di appunto sta lavorando sulle marketizzazioni fissando i pacchetti e per nuova visita chiaramente noi lo stiamo facendo su TV però noi ci stiamo concentrando su anche se altro musicante e lui si può aggiungere qualsiasi momento c'è chi appunto sta lavorando su la progettazione del processo penale perché è vero poi non avrà uscita immediata però il progetto ha valore per quello che ho detto inizio è un moderno si è stato rufficato poi ci dicevo che c'è anche inizio 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 a una società esterna nelle scuole appunto è partito dall'anno scorso questo progetto su scratch ci va facendo nei complex che si è natato sotto anche lì bisogna ricicare computer metterli a posto letterari formali quindi ci sono tante cose che si possono fare l'altra cosa che ci piacerebbe che abbiamo desiderato non c'è ancora in corso è in qualche maniera condividere tutto questo conoscente del progetto eccetera nell'università per scuola tecnologica che entra le successive evoluzioni cioè che si avvicinano a parlare di questa malattia che non è mai stata quella scelta e dice guarda io non posso farlo io sono infammato non ho scienza non si posso prendere l'acqua mi si assegna ma non è fatta così ma non c'è l'unità quindi poi dice quanto vuoi fare la quanta poi c'è chi traduce chi diffonde chi fa un principio di animazioni piuttosto di fare le cose di comunicazione passaparola chi la parte soffre anche per i siti che sono un po' e alla fine c'è Gioia Germana anche su quello è buono e basta la cosa è aperta ritorno sulla campagna di animazioni ovviamente c'è una certa c'è un desiderio riuscire a far sapere che c'è e come funziona no? perché campagna di animazioni non è il crowdfunding uno è che siamo un'associazione non possiamo fare un crowdfunding due i siti crowdfunding non di solito otteniamo una sfera quadrofondi su una cosa che è un progetto questo è un prototipo e queste due cose versi insieme più il fatto che non vogliamo dare dei tempi che non costa male nel senso che non possiamo averci due mesi venti anni quindi il fatto di farlo vengono fatto sul nostro sito a capare le azioni usando un prodiglio oppresso ci siamo disegnati e questa è stata la scelta più economica perché non parliamo di una fila di nessuno ma anche più italiana no? quindi abbiamo fatto che cosa? abbiamo fatto la raccolta alla prima fase scriverete questo scriverete è stato fatto pubblicato ovviamente non è più definitivo ovviamente rivolgo ma non ci sono afficinato dal prototipo ma non lo scriverete con la giornalata ma non lo scriverete ma non lo scriverete finalmente PCV costa di più va abbastanza più di quanto ce l'ha stato prima preventivato per una ragione perché lei non comprende tutto completamente però diciamo essenzialmente perché c'è una fase di simulazione che viene stata percorrata e poi diciamo anche perché verrà inviaggiata diciamo anche chi fa la produzione per assistere a questa fase perché probabilmente avresti di sì la produzione diciamo a questo postato che è convoce i cartoni e quindi per voi i volontari di scendere se la prova sono i prototipi a fase dopo i test dell'acqua le altre certificazioni sono vari ecco sicuramente questi sono da strutturare lo studio elettrico quindi adesso siamo concentrati su tutti i siti di farfalla il suo percorrere la farfalla nel senso che rispondo alla domanda di prima potrebbe esserci una situazione potrà secondo me secondo questa visione di farfalla potrebbe nel senso che se un appassionato si appassiona questa cosa potrebbe condivinare altri potrebbe quindi e potrebbe essere che altri degli altri scegliono liberamente per raggiungere se collaborare anche non hanno una collaborazione per cui potrebbe essere per i condividi scopriamo quattro esibili per esempio trovare una scuola oppure scoprire che forse in effetti una certa possibilità di successo da un obiettivo specifico per cui ecco più o meno quella è difficile a vedere se non che il corso interesse tra noi e lavoriamo moltissimo cioè capitano effetti contatti entusiasti contatti 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 a fare questo che è un punto di partentità cercare di includere tutto ciò che è positivo degli altri e creare una cosa di sinera fare in modo che queste energie siano in qualche mania fioriscano positivamente insieme e quindi vediamo che succede noi cerchiamo di creare questo questo portice positivo e vedremo che sia un po' sta funzionando sia una mania campagna nel senso che non è diviso in tante campagne viene ridotto il rischio diciamo così vi ho spiegato prima che finchè non avevamo un certo ritmo non fermiamo un contratto con le società che devono fare l'agentazione potrebbe succedere che però nel caso peggiore non saliva lo stesso di quello che si fa anche con i coordinatori si deciderà di cosa destinare per rispondere società che è una struttura che ci hanno fatto non c'è questa possibilità di diciamo vero adoro però c'è sì che via notte facciamo sempre chi ha donato per vedere se si sta parlando un progetto se c'è gente che vuole trovare i progetti se dovresti proprio passi c'erano 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 in questo modo cerchiamo di aiutare questo no e secondo la giornata rispetto a questa campagna che siamo curati da 3500 ci siamo più adesso siamo a 15% in realtà grazie 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 più po' la socializzata non è che tutti quei 3500 erano contenuti in pochi giorni ci sono diversi donatori per il corretto c'è gente che dice vedi la 10 era la media e questo ha comportato finalmente per mettere via 200 euro infatti poi non c'è nessuna che fare l'altra sarà conclusa e quindi diciamo è anche una forma che dice ovviamente chi mette in collaborazione pesa alla fine e poi c'è la chiedete va bene abbiamo una cosa però ci sono 50 persone che dicevano vivono come quando vuole quando vuole torno però ti ha una certa cosa lì pensare che a 5-6 mesi riusciamo a andare un po' avanti in questo piano ma meno veramente poi l'ultimissima poi abbiamo 15 minuti per qualche domanda ancora al nostro stand abbiamo portato quello che è un desktop una schiena madre che non era però lo stesso processore diciamo il dev kit che è la società che fa la cpu fornisce a chi deve fare certi sviluppi sul loro chip e questo fatto in case fatto in meglio da Mario con i nostri soci siamo usciti quando abbiamo lavorato nel periodo precedente a mettere in pedito quello che c'era bisogno per fare batterie grafiche per questo tipo che non era assolutamente per diventare un desktop quindi non c'era nulla per e quindi ce l'avete all'esposizione per dire che quello lì ci sono usate con pratiche ovviamente sarà più potente non che ci interessa solo la potenza che perderemo se facciamo chi è più potente sicuramente però abbiamo cercato un'altra cosa che è un'altra cosa più avanti di un'altra cosa che è più avanti da questo è un'altra cosa e però ci è avviso così per una cosa in concreto ecco io mi fermo qui abbiamo ancora 10 minuti per andare insieme c'è qualsiasi dubbio domanda profondimento siamo qui non so se qualcuno è venuto qualche cosa che risultava un po' più di aspetta puntami meglio oppure come fatti non so qualsiasi cosa ad esempio si 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 un chipset umano, di fatto adesso credo che lo stessi usano per il power model della società, ma comunque è un SATA3, è abbondabile, si ha conosciuto un uomo, una soluzione tecnologica, noi abbiamo contattato all'epoca anche il prodotto e alla fine ci ha detto che ci sono anche progetti ordinari con loro voci, lo stiamo usando, ma questo sv3 mi sembra un frutto di variazioni da fare, mi sembra che sia pericone un hack di questo sv3, qui diciamo che c'è un classico subordinativo, un bridge, come ci sono questi chip, c'è un PCI, bridge, switch, PCI per far moltiplicare alcuni PCIe, per fare rischio perché sono un po' limitato, no? E poi, ecco, questo è un collettivo, l'ultima classico, che ci sarà questo tema del chip cloud, no? Perché, allora, siccome in questo progetto ci sono varia, c'è chi è un po' il Mondamiga, e chi vorrebbe leggerla sopra l'OS, ma su un chip audio, e a chip audio ci stanno un chip, che immagini su PCIe, con su USB, con nessuna linea o così, allora, mi ha cercato di... E alla fine ci troviamo un chip molto importante, la Cimiglia, che è quella che è quella che mi ha invitato in Russia, che stanno sull'Aubio, e ci hanno incredibilmente anche risposto, carissime, cioè ci hanno portato un archivite, ci hanno detto una roba, per cui hanno portato questo chip, molto buono, dell'Aubio, della Cimiglia, per esempio, sulle scene portate, qualche altro. E poi, la scheda video, in realtà, è separata, nel senso che, in realtà, è una certificazione di progettazione, per evitare di... e per regolo meno solito, e poi mettiamo l'interfaccia in XS, che è esattamente il corrispettivo neonatalizzato della PC, che diciamo che usano anche per la scheda video del PC normale, e così, diciamo, la scheda video vediamo già fatta, mettiamo il filiale del pettine, e, semplificando la cosa, la vediamo in un giornale. Ovviamente, questo complicato, alcune cose, è quella scelta dello chassis. Cioè, scelta. Poi, i difficilisti trovano un chassis che ti diano un voto per fare 200 portate, invece, qua, ti guardano tutti uno, cosa vuol dire. Quindi, quello del lavoro è difficilissimo, sono due anni, abbiamo messo l'anno per pericare a Facebook, e... e quindi diciamo anche lì perché, ovviamente, queste schermine sono abbastanza calzate, perché sono per i game, per quelle loro station grafica, da un punto di vista lì, non è male, perché saranno portati, e anche da un punto di vista, abbastanza interessante, no? Chiaramente, non dovrai mettere su una scheda video esagerata. Comunque, fino a 50 gradi, una bella scheda video, che sono molto grande. E' proprio giusto, che basta, la storia, non è una cosa più importante. Sì, la domanda più grattura era, quindi, l'open hardware è limitato anche, verso cosa si può condividere con nuovi chips, o sempre le tecnologie proprietarie? Sì, diciamo, appunto, ho detto, sì, sì, di solito, ci sarei di prospettiva, che, per lo meno, sono quelli che sono i power 9, eccetera, eccetera, non possiamo usare, è per server, quindi, usiamo le liste, che è creato, quindi, lì, è un special set aperto, quindi, vantaggi, ma non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo, insomma, per cui sì, tutti i città, dal punto di vista di solito, però, per lo meno, mi sembra che, tutti quelli che ci avevano scelto, i datasheet sono scaricati, ma, mi sembra che, a volte, pari scopparci, a volte, non è sempre costante, ma, diciamo che, quando abbiamo fatto le verifiche, li avevano scaricati, e poi, lì, abbiamo chiesto, non tutti ci hanno le risposte, è vero, poi, guarda, ora, che stiamo pubblichando, con, un po', che sta girando, abbiamo anche, menzionato, sul video, che, diciamo, che è una passivetta, che stiamo facendo, quindi, suppongo, che è un altro, bene. I vantaggi economici, quando il progetto sarà, diciamo, realizzato, per le aziende che producono, e per chi ha questo prodotto, in che, diciamo, percentuale, ma, allora, tema questo, cioè, allora, parlando della produzione, che si è immaginata, cube, 1200 pezzi, non puoi farlo, diciamo, no? E comunque, ti costa, diversamente, fare decine, quindi, chiaro, lo sarà, quando vederà alcuno, sarà un contatto economico, è anche vero, che, avendo una scheda, indio separato, non si, si inserisce in una fascia, è un stranzaggio, Però, ripeto, il valore, diciamo, se uno prende, non so, faccio un esempio, ecco, questo 3000 Hz, gli dà un valore a certe cose, no? Un altro prenderà uno strato, però diciamo, stessamente più di 1000 Hz, sicuramente, e, cioè, non mi hanno idea, dà un valore a altre cose, quindi, chi lo prenderà, ha valore per me, questo, questo, no? questo, per cui, diciamo, l'arco, diciamo, di chi compra, è una scelta economica, nel senso, economica, nel senso che, immaginando economie, il senso più alto, più alto, invece sì, perché, qua, c'è dietro un, delle scelte che, voglio dire, potrebbe essere, per un'altra persona, un'altra, in realtà, diciamo, a sua volta, prendere questo progetto, modificare, produrre, sull'altra, cioè, potrebbe nascere, una vita di profitto, e comunque, per noi, non è che, non abbiamo una successione, poi, a dire fuori, non so se dici il posto, Sì, non so se dici il posto. Sì, il giovane ha, cosa dico? Ragazzi, tanto, capisco, qualcuno di elettronico, qualcuno, no, così, non c'è, non c'è, non c'è, sì. Ma io ho una domanda, sulle stampa 3D. Sì. Se sono riferita allo chassi, del, del BAUDICI, o del progetto, no, no, allora, il progetto, ho pienato, un progetto, che è pensato, non solo, diciamo, diventa un'alternativa a questo successivo che abbiamo già fatto. E' pensato, quindi, da lì, se il BAUDICI, di venire qui per qualsiasi del progetto, chiaro, ma la lezione che puntiamo di fare, va, come, diciamo, primi agarici compatibili con la speranata che faremo. Ma, se il BAUDICI, non vuol dire che è già possibile di fare. E qui nasce, anche perché, noi abbiamo iniziato, comunque, tra le terempie, in caso, lo successivo non va a essere uguale, no? E, però, abbiamo ripensato, un po' traumatico, l'idea di dare una cosa al di là di questo processo. Però, appunto, adesso, vogliamo partire, da quello che lo successivo attuale, per vedere tutto di nuovo, perché la nostra strada è disegnata con gli esseri. Quindi, diciamo, il vingolo patro, lasciarsi questa roba. Quindi, nel momento in cui erano tutte le misure, misurate, eccetera, eccetera, la progettazione era un po' più placente. E poi, sempre, ogni po' più persone. Adesso, infatti, ci sono come due realtà che stanno facendo una parte che si è affriccato. Tra l'altro, uno dei due più ferrati sono affriccati, però, quando la comunità diciamo, non è stato affriccato, non è stato affriccato, non è stato affriccato. L'altro, diciamo, che è stato affriccato, mi fanno anche schede, schede di hardware, che sono dedicati, che sono disponibili ad una ora e più. Però, diciamo, che sarà grande. Quindi, per arrivare fino al dettaglio, perché poi, io ho detto, lo strambo a te di un po' affriccato, è un po' grande per una parte casa lì. O per uno, ci sono due abiti per quarenti, per tre, e poi, anche per la qualità, diciamo, la ricerca, era un fatto, una e mezzo fa, servono a destampare un certo tipo, aere, prodotto, una certa cosa. E ancora un minuto. No, no, ho chiuso, 11, ero 11, 20, 20, 20, 20. Una cosa che mi viene in mente è proprio il dato che lo chassis era stampato con una stampante di... Questo, quello, non quello, diciamo, che traemolo su una cuba, la ricciata. Cioè, per possibile fare dei kit, diciamo, per poterli montare... questo momento, non è una nuova, cioè, se c'è una cosa, questa è una cosa direta, non è una cosa direta, quindi, se si giunge gente che è in grado di fare quello, cioè, questo momento non c'è lo personale, nel senso che, cioè, se hanno i geni, no? No, sì, cioè, in realtà, tutte queste cose che sono avvenute dalla scratch a, diciamo, magari di progetti che sono menzionati ad un minuto, per esempio, un progetto di diosco, adesso mi ha stato confizzato, un progetto che parla a chi si aggiunge. Quindi, ne abbiamo? Sì, sì, no? Scusa, c'era... Volevo qualche informazione più su il progetto di riuso. Sì. Le macchine che ricondizionate nel bisogno e da che punti arrivano? Ma, allora, il progetto nuovo è l'anno scorso, è fatto nelle macchine, quindi, diciamo, io non ho l'esperienza diretta, però quello che ha fatto questo programma, questo nostro socio, lui ha fatto servizio. Lui ha parlato della scuola per il progetto. Per il progetto, in cui si passano la voce tra i genitori, tra gli amici, eccetera, e alcuni hanno dato a studiare al Google e non saperemo che farse. Iniziamo a fare un po' le tizze tipiche, magari, la A, la A, la A, eccetera, in agosto, e poi, nel frattempo, i giorni a costo di portarli, una quindicina, rimasta la 12, per la classe, poi sono tutti pronti, l'anno scorso, insomma, ha iniziato a fare il corso, quindi, ho già fatto la scuola, con l'unica, che c'era da fare. Adesso, domani, si parli a voce, magari, forse c'era anche la benzina, la fosofonia, le importate, però ancora, è una cosa che era meglio, no? l'associazione. Qua, ovviamente, potrebbe marciare, però, non c'è, in questo momento, qualcuno lo sta facendo, no? L'associazione, diciamo, appunto, è l'associazione, alla fine, i reglietti internazionali, nel senso del progetto, nasce con quello di tutti i posti, quindi, a maggior ragione dell'Italia, potrebbe rinascere con la stessa città, adesso, ad esempio, l'associazione, però, c'è uno stefano, ci sono un banchetto, per raccontare il progetto, anche lì, sta valutando questo ragazzo, che si è giunto all'associazione, se c'è anche lui, una cosa di stretto, no? Ecco. Se vorrei fare una domanda, sulla parte di alimentazione, poi, di tutte queste schede, anche lì, si è cercato di avere un progetto aperto, sulla parte dell'alimentazione proprio? Allora, allora, si è partiti, si parte, si sa, si è partiti dalla, da una mudra a cui si, diciamo, viene tutto il volo, no? E si è cercato di buttarmi dentro, no? Quindi, se non erro, in questo caso, per me non c'è la scelta, non c'è la scelta, non c'è la scelta, non c'è la scelta, se non è in questo caso, non c'è una scheda separata di alimentazione, quindi, credo che sia dietro la nostra scheda. C'è qualche pezzettino, che teniamo guarda, queste linee aggiuntive, che però mi sembra che sono Ethernet, un pezzo di usd, led, altre scopinate vari, per cui, invece della scelta, dovresti trovare qualcosa a riguardo quello, anche se, ti dico subito, che ci saranno la versione, perché la parte delle limitazioni è stata modificata, cioè la versione che adesso c'è, il settembre, ovviamente, è definitiva, e sono fatte l'ottimizzazione sulla parte delle limitazioni. delle limitazioni io ho qualcosa che ho messo sul sito, sui siti usati, eccetera, probabilmente, devo verificare che cosa è stato variato. Per cui, non è una condizione che ho avuto. che ci sono eventuali esempi? Ci sono, sì sì, di una parte, diciamo che, non c'è una scrittina già presente nel documento, quindi non abbiamo riciclato quella parte, ma è stata un'altra parte. Va bene, grazie. Sì, è un nuovo altro ultimato. con questo progetto. E poi chiediamo di chi è veramente interessato a... così viene giunto. Ma allora, dicevo che no, Qub System è questa piccola aziendina che è interessata a tutti. Tra l'altro, i clienti ci sta sicuramente una presentazione non direttamente, appoggiamoci poi ad un'altra persona ancora, però loro sono interessati, faranno i periodi, cioè svegliano su di fondo, eccetera, in questo momento ci sono loro interessati insieme con gli ebook che è quella che fornirà lo chassi, la parte, diciamo, viene creata dopo. però, ovviamente, una cosa bella quindi, tra l'altro, è che in un'altra parte del mondo dicevo che non ti fa capo, è più vero se per l'ora già è qualcosa che c'è, forse, poi il resto, per l'effetto, fa falla, non lo so. Per cui diciamo, se nel 2020 effettivamente riusciamo a arrivare qualcosa in un'altra parte che parte chi vuole il prodotto o no, però, non lo so, 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 se avete lasciato il vostro contatto bene, cercate di un'unità con il Dello King di Medio che ci ha, scusa, King's Dream, eccetera, grazie di un'unità e di un'altra parte. Grazie.